salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti come informa fanpage.it gli aumenti della perequazione anticipata arriveranno a dicembre 2023 dunque i pensionati riceveranno un maxi assegno nell'ultimo mese dell'anno vediamo insieme tutti i dettagli nel video che segue prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale naturalmente è tutto gratuito come sempre per chi vuole possibile abbonarsi al canale schiacciando il tasto bonati e donare una piccola cifra per supportarci ulteriormente ora partiamo con il video a dicembre 2023 molti pensionati vedranno un notevole incremento nei loro cedolini pensionistici questo sarà dovuto principalmente a tre fattori in primo luogo come ogni anno verrà erogata la tredicesima mensilità che rappresenta un importo equivalente a un dodicesimo dell'assegno annuale per coloro che sono stati in pensione per l'intero anno tuttavia è importante notare che sulla tredicesima non vengono applicate alcune detrazioni fiscali il che la rende più vantaggiosa in termini di importo netto rispetto all'assegno mensile normale in secondo luogo c'è un bonus speciale destinato a coloro che ricevono pensioni particolarmente basse il cosiddetto bonus tredicesima questo è un ulteriore aiuto finanziario per coloro che ne hanno più bisogno il fine in governo ha annunciato l'intenzione di anticipare il conguaglio legato all'inflazione solitamente previsto per gennaio in modo da erogarlo già a dicembre questo è risposta all'aumento dell'inflazione nel 2022 che è stato superiore allo 0,8 per cento rispetto alle previsioni iniziali ciò significa che tutti i pensionati riceveranno insieme agli arretrati un conguaglio pari allo 0,8 per cento della loro pensione in sostanza l'assegno pensionistico a dicembre dovrebbe aumentare del 10 per cento rispetto all'importo del 2022 ad esempio perché aveva una pensione minima di circa 525 euro l'anno precedente l'aumento sarà di circa 50 euro mentre per coloro che hanno una pensione di circa 2.100 euro lordi l'aumento potrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro al di sopra di questa soglia l'aumento sarà inferiore diminuirà progressivamente con l'incremento dell'importo della pensione mensile in breve dunque i pensionati dovrebbero aspettarsi un cedolino più sostanzioso a dicembre grazie alla combinazione della tredicesima mensilità del bonus per le pensioni basse e del conguaglio anticipato legato all'inflazione fateci sapere i vostri pareri e dubbi come sempre qui sotto nei commenti del video bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti